Consigliere, una battuta, la prima esperienza consigliare, quali sono le sue emozioni? La mia emozione è il senso di responsabilità che pesa su di noi più che un'emozione e il pensiero di dover affrontare tanti temi importanti per la nostra regione. Avete avuto modo già di vedere il Presidente Bardi? Avete già organizzato i primi punti in agenda? Stiamo, ascoltiamo il Presidente, il Presidente farà un intervento nell'aula consigliere e spiegherà tutto, lo start-up delle cose. I primi punti riguardano gli assessorati, ancora c'è qualche incertezza? Quando potremo avere i nomi? La giunta, lo dirà il Presidente, è fatta, aspettiamo i prossimi giorni per la comunicazione ufficiale. La Basilicata ha tante priorità, ha la priorità sanità, ha la priorità ambiente, ha la priorità immigrazione giovanile, ha la priorità del lavoro dei nostri ragazzi che non si fermano più, lo spopolamento, i borghi dell'entroterra che vanno morendo, ha tante cose in cantiere per cui noi lavoreremo per questo. Le infrastrutture, le strade, dobbiamo portare la Basilicata più vicina all'Italia, ora è troppo lontana dall'Italia. Lei ha parlato di sanità, il suo nome è stato accostato all'assessorato della sanità, sa dirci qualcosa in più? No, aspetta il Presidente questo. Potenza e Matera, quale può essere il filo conduttore per avere una Basilicata unita che viaggi verso un'unica direzione? Potenza e Matera devono essere unite perché sono due realtà importanti della nostra regione che devono, invece di creare i campanilismi, sono fuori dal tempo, non devono esistere più i problemi di campanile perché ogni territorio ha delle vocazioni naturali e noi su questo dobbiamo lavorare, per cui sarà un lavoro duro, difficile, c'è volontà, c'è passione, io ho fatto il Sindaco e quindi so bene come si affrontano i problemi, ho un minimo di esperienza amministrativa, per cui sono molto ottimista.